I pazzi sono morti, tutti quanti, devo ammetterlo, non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno, neanche io. Ezio, ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno. L'onore è mio, signore. Cosa farai adesso, figliolo? Ci sono ancora altri che devo trovare, stanno già piantando i loro artigli nel cuore di Venezia. No, la bella Venezia. Allora è lì che deve condurti il tuo viaggio. Prima che tu parta, ho qualcosa per te, un due. Questa cappa ti identifica come amico dei medici. Finché l'indossi, le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti. Bada però, essa non ti garantisce l'immunità dalla legge. Che la fortuna favorisca la tua lama. non ti garantisce l'indossi, non ti garantisce l'indossi, non ti garantisce l'indossi. giustizia, giustizia, giustizia. La giù! La! Prendetelo! La giù! La! Prendetelo! Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, messere, ma è partito. Una nobile famiglia veneziana ha commissionato al maestro dei ritratti. L'hanno finanziato perché trasferisse l'intera bottega a Venezia. È una magnifica occasione. Molte grazie, amico. Non so se io! Stai indietro! Guarda! Aiuto! Fermatelo! E tu! Stai indietro! Pietro, messaggio! Non uccidertemi, signore, pietà! Ecco la borsa! Non uccidertemi, signore, pietà! Ecco la borsa! Ecco la borsa! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!